Aldo racconta la sera del 5 agosto 2022, guardo questo bel lago, nonostante che non c'è la navigazione è un lago che favorisce la mia personalità in senso naturalistico, vedere la placidità di questo lago dove evoca sensazioni, vedere la parte di fronte, io ringrazio coloro che ho conosciuto questa sera al lago qui dove mi trovo tuttora, ho avuto un colloquio veramente eccezionale nel conoscere queste due persone amo essere qua, fare il girovago dei laghi lombardi, oggi pomeriggio ero al lago maggiore poi mi sono portato stasera con il treno, sono sceso alla stazione di Gavirate e sono arrivato esattamente a 100 metri dalla stazione al lago di Varese dove sono tuttora guardo il tramonto, guardo quest'acqua bella pulita dove il senso di luce può emergere nel mio io in quanto consapevole di un bellissimo colore, pittorico sì, il cielo azzurro una nuvola bianca e l'acqua che predomina il senso del verde, ma sì, è uno spettacolo più che suggestivo essere qua sulla passerella del lago di Varese dove un breve picnic e una ventata di vento così forte che mi ha dato colloquio personalmente con altre persone circostanti. Io sono qua ad ammirare questi laghi lombardi dove poi andrò a vedere anche il lago di Monate, ma l'importante è che io sia consapevole sempre del mio habitat, dove io mi trovo in questa bellissima passerella dove affianca il lago di Varese. Io ogni giorno cambio provincia, Bergamo, Sondrio, Varese, ma sono sempre io che medito e rifletto la mia personalità in quanto è capace di esaminare ogni giorno le sensazioni visive dove l'occhio favilla nella bellezza naturalistica.